Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della rubrica di scatto e ritocco. È dall'anno scorso, ovvero da metà dicembre, che non realizzo uno di questi video e quindi sono emozionato di tornare a fare questa rubrica con questo nuovo anno. Oggi all'interno di questo episodio vi voglio proporre quello che è uno scatto creativo di una palette make-up di un mio cliente. Praticamente stavo approfittando del fatto di scattare alcune fotografie creative e ho detto perché non farci appunto un video tutorial. Come vedete alle mie spalle c'è tutto il setup montato ed è un setup un po' strano. Vi spiego un po' come l'ho realizzato. Praticamente abbiamo il prodotto che è mantenuto da una magic arm in questa posizione quindi semi chiusa. Siamo circa a un angolo di 85 gradi penso di apertura della palette e qui in basso troviamo un accessorio molto interessante o meglio dei props molto interessanti. Praticamente ho preso quelle che sono delle lavagnette per portate, quindi dei piatti in lavagna, le ho spaccate col martello e praticamente ho composto questa sorta di struttura rocciosa ed è davvero davvero particolare come risultato in camera. Vi faccio vedere fra poco quello che è uno scatto di prova. Se volete replicare la cosa per stare sicuri avvolgetela all'interno di un panno o uno straccio e martellateci sopra così da romperle e poi cercate di rimuovere quelli che sono gli angoli appuntiti semplicemente diciamo sfrecando due pezzi di lavagna l'uno contro l'altro. Vi assicuro che se fate le cose per bene non vi fate male anche perché non sono molto taglienti, diciamo sono molto fragili le parti che destano molto appuntite quindi si spezzano anche con le dita. Premesso ciò vi voglio spiegare un attimino quello che è il setup lucidi che andrò ad utilizzare oggi. Somando particolarmente con questi prodotti makeup ma in generale ho una tendenza verso l'utilizzo di ombre dure e comunque fondali e setup scuri e quindi quello che vi propongo oggi è un setup che vedete fra poco. Praticamente c'è quindi una luce principale che vedete forse giusto giusto dall'inquadratura con una parabola e una griglia di diffusione a 30 gradi. Utilizzo la griglia per non far cadere alcuna luce su quello che è il fondale o sull'area circostante. La camera è qui in basso e punta verso l'alto. Mi piace molto questa concezione di vedere l'oggetto dal basso e porterò sempre più tutorial soprattutto per quanto riguarda i gioielli molto interessanti. Sul fondo come vedete c'è una sorta di fondale in PVC che richiama un effetto pietra, un effetto roccia che praticamente sto illuminando con un altro flash e uno snoot. A proposito sto utilizzando i Godox AD400 Pro che mi sono arrivati da poco e sono davvero super soddisfatto di queste luci. Non vedo l'ora di portarci un video sul canale dove appunto vi parlerò di queste luci ma ovviamente inutile stare a farci una recensione perché tanto le vedrete spesso nei miei tutorial. Quindi vi dicevo lo snoot anch'esso possiede una griglia a nido d'ape che va a realizzare un cono su quello che è il fondo appunto il setup è tutto molto oscuro. Vi faccio vedere quello che è uno scatto di prova che è praticamente uno scatto anche definitivo proprio perché lo sono andato già a impostare dato che stavo già scattando i prodotti. Non mi fa impazzire il fondale illuminato in questo modo mi servirebbe una sorta di fascia di luce ancora più ristretta proprio per dare importanza al prodotto. Come vedete le ombre generate su questi strati di lavagna sono molto interessanti infatti c'è questa zona di luce sulla lavagna e questa zona d'ombra sotto che va a creare un rilievo e un effetto tridimensionale molto interessante. Ovviamente l'immagine è da ritagliare probabilmente in quattro quinti o comunque in un formato un pochino più squadrato ma non esattamente quadrato. Ovviamente è anche compatibile col formato quadrato per i social quindi non vi preoccupate di tutto il resto che lo circonda e vedremo dopo come realizzare anche lo scatto composizione senza tutta la parte frontale proprio per andare a richiamare quello che è solamente il fondale. Ma questo sarà un pochino difficile quindi probabilmente lo rimuoveremo semplicemente in Photoshop perché appunto andando a modificare un attimino quello che è il cono ci sarà una variazione di luce ma vediamo in corso d'opera quello che otteniamo. Quindi vi dicevo questo è lo scatto preimpostato innanzitutto ho dato giusto qualche regolazione per quanto riguarda luci ombre e contrasti giusto per valutare un pochino l'esposizione. Dopo andrò a campionare il bilanciamento del bianco operazione che non faccio più sempre in ogni tutorial perché chi mi segue sa benissimo che bisogna farlo prima di iniziare a scattare. Io lo faccio alla fine poi sincronizzo il bilanciamento del bianco con tutti gli scatti e quindi volevo farvi vedere come vado a modificare il raggio di diffusione per quanto riguarda lo sfondo. Mi avvalgo dell'utilizzo di due cartoncini che praticamente sono due cartoncini neri che utilizzerò proprio sullo snoot quindi lo snoot passerà al centro e mi permetteranno di andare a sfruttare questa parte proprio per andare a indirizzare la luce un pochino più a cono. Vi faccio vedere cosa intendo quindi li metto in questo modo e li direziono leggermente verso il basso vi faccio vedere già la differenza quindi vedete ottengo già un cono molto più definito. Posso ovviamente variare semplicemente allontanandomi e avvicinandomi. Quindi vedete ottengo proprio questa fascia di luce molto molto bella secondo me che va tipo ad indicare come se fosse una sorta di proiettore sul fondo. Vi faccio vedere che anche utilizzando in questo caso ho preso veramente il riflettore del flash ma potete utilizzare ad esempio un rotolo per lo scotch ad esempio e posso utilizzare anche quello leggermente in diagonale davanti alla luce per andare a mascherarla. Quindi vedete ovviamente bisogna trovare la posizione giusta e con il cilindro leggermente inclinato come vedete ottengo più una sfera piuttosto che un cono che pure interessante ovviamente bisogna cercare quella che è l'angolazione giusta. Quindi come vedete possiamo decidere noi se andare a utilizzare quella che è una formazione a cono oppure una spotlight su quello che è il fondo. Se il fondo non dovesse piacerti ovviamente illuminato possiamo optare per una fotografia leggermente sul nero ma questo andrà comunque a generare troppo troppo contrasto e quindi l'oggetto si perderà poi nel fondo. È per questo che ho appunto utilizzato un fondale. Vi faccio vedere un'altra opzione utilizzando il fondale in caduta di luce quindi vado a rimuovere semplicemente quello che è il fondale grigio. Innanzitutto vi faccio vedere così con il setup che sto andando a scattare cosa ottengo. Quindi vedete abbiamo comunque un'opzione con un fondale molto illuminato ma possiamo andare ovviamente a ridurre la luce dello snoot. Innanzitutto per quanto riguarda proprio la potenza che vado ad abbassare in modalità wireless. Ok qualcosa del genere e poi possiamo richiamare sempre la formazione a cono tramite l'utilizzo di due fogli di carta. Ovviamente bisogna stare a cercare l'angolo perfetto. Ok così dovrebbe andare bene. Questo era giusto per farvi vedere che se non avete il fondale come l'ho utilizzato io in questo caso potete utilizzare veramente di tutto. Anche un semplice telo nero oppure vi faccio vedere anche una prova. Questo è un plaid, un plaid nero, lo attacco al muro utilizzando i ganci dello specchio che al momento non c'è. Ovviamente non so se abbastanza. Vediamo se copre il frame. Ok non copre tantissimo. Quindi vado a riutilizzare il fondale come base d'appoggio. E vi faccio vedere che se aumento di nuovo la potenza del flash sul retro. Come vedete si inizia ad intravedere. Ovviamente poi possiamo decidere di spostare un pochino la luce. Andiamo comunque a valutare sul set quello di cui abbiamo bisogno. Quindi non so potrebbe piacervi un'opzione del genere. Questo per farvi capire che nella fotografia creativa possiamo veramente utilizzare di tutto purché raggiungiamo comunque un risultato molto interessante. La prima opzione e forse anche la seconda mi piacciono di più. Questa era semplicemente per farvi vedere che se volete potete veramente utilizzare di tutto in fotografia. Bene ragazzi questo tutorial può definirsi concluso qui. Io vi invito a lasciare un mi piace ed iscrivervi al mio canale se ancora non siete iscritti. E soprattutto se ci sono domande relative al set fatemi sapere qui sotto nei commenti. Vi invito comunque a dare un occhio alla descrizione del video perché ci sono tantissimi link utili tra cui l'iscrizione anche alla mia newsletter per quanto riguarda i workshop che farò nel corso del 2022 in Italia. E' per me importante capire quante persone sono interessate alla realizzazione di questi workshop. Quindi mi raccomando fatelo. Poi ci sono ovviamente i link ai miei social. Vi invito anche a seguirmi su Instagram perché lì pubblico molti retroscena e comunque informazioni utili per tutti i miei movimenti in ambito lavorativo. Noi ci vediamo quindi in un prossimo video. Un saluto da Marco. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!